ciao a tutti i signori del canone, ciao a tutti i signori del canone come vedete stiamo facendo una scala qui eh però dove eravamo partiti da 5 abbiamo sbagliato ah abbiamo mancato, vabbè lo facciamo oggi vero Falco? no oggi facciamo l'1 e poi ritorniamo a 5 capito eh? che poi ricominci un teschio siamo troppo brani in questo gioco e Dix ah Dix e quindi come si chiama il gioco? che stiamo giocando Orcs Must Die ah ah 2 ma ti sei unito cioè tipo gioca? pronto chi è? sto cazzo Dix tu sei sto cazzo Falco è Dix ho messo anche il trattino che è per Dix ah scegli le tue fisi Dix oh ne posso mettere un'altra il partner sta leggendo il grimorio tu sei partner non sta leggendo il grimorio eh partner ho la cintura curativa che non mi serve un cazzo un cazzo tu non ce l'hai la trappola parete eh? si ma sono inutili qua le trappole sono inutili? allora la tolgo si come si gira sta molla? non lo so mi tolgo il tuo stesso equipaggiamento eh qua infatti non qui possono servire trappole pareti ma neanche vabbè le piazzo due ma buono una le pianti? le pianto le pianto le pianto ah ok e poi con questi qua questa qua è utilissima come vedete la nuova arma ah posso ruotare ruota ruota wow come si fa ruotare? che arrivano i tisti con R si è scritto grandissimo non so se l'hai notato ah vabbè puoi farlo con quella arrivano i tisti e li butti giù capito? questo è quello allora metti una di quelle ah metti due di quelle diventa bene no non ce l'ho i soldi ma l'hai messa dove stavo mettendo? eccola la mia molla costa molto ma se metto una di queste qua in alto funziona? li ho potenziato solo a destra potenziato a sinistra ok Dix qua è inutile qua è inutile proprio dove hai messo queste due Dix eh ormai le ho messe ah no no le ho toglie la è è gratis perchè è inutile? non salgono le scale Dix allora un orde esce di qua e l'altro orde esce dall'altro lato questo passaggio è più per noi che per loro loro vanno a sinistra direttamente ah capisco non avevo notato vabbè patata vabbè patata metti le trappole a destra se io le ho messe tutte a sinistra come coglione ok io sto a posto anche io sto a posto cosa fa sto coso? ah wow è inutile cosa sei fatto? eh vai andiamo 3,2,1 Dix escono solo da quella di destra alla prima ah la tua cioè ah ci sanno gli arcieli questi fanno male sono pericolosi? no oh che cazzo è questo? chi cazzo è? quella è quella che cerca solo me quella è quella che cerca solo me quella è quella che cerca solo me veramente stava cercandomi perchè cerca solo te poi? perchè è nato per uccidere il guerriero eh io non sono un guerriero oh tu sei una magra che sono una puttana non fare la puttana non sono una puttana dove sei? sto qui dietro si sta prendendo una nuova breccia che significa? dall'altro lato che passano da un'altra parte si oddio 3 2 1 pianta pianta non pianta non pianta contro zombie eh quello è nato l'idea del gioco però adesso non lo avremo no vabbè i tower di pezzo sono un genere a parte proprio aiuto questo mi cerca quello mi cerca l'hai congelato hai fatto il pezzo però lo devo solustire l'ho ucciso io non l'hai ucciso quello che mi cerca oh tu c'è una moneta qua che cazzo è? prendila ma stanno scendendo solo da qua dall'altra parte del posto guarda la mappa ah ok non la mettere in che senso? in che senso? si ho capito così? si moda dove escono dall'altro lato cioè la fai vedere la mappa non la guardo guarda questo! guarda quei sui navi allo che figata ahia non ero ancora arrivato anche da tutti i due lati vai tu rimani tu di qua io vado da te rimani tu di la e tu vai dall'altro shhhh il problema è Dix si è modo ancora ancora il problema è Dix oh aspetta ci sono questi qua cattivi dammi una mano perchè io sono un po' fottuetto ho ucciso quelli che stanno arrivando mo come stai messo? eeeh stanno tutti intorno a me almeno è meglio intorno a me che non nella breccia che ne è entrato solo uno per il momento no la c'è un'altra breccia Falco rimani a sinistra sinistra? a destra cazzo Dix è colpa tua comunque non è entrato nessuno in quell'altro nella mia non è entrato nessuno ce l'ho fatta nella mia è entrato uno perchè ero proprio circondato non mi rendo conto della situazione sono pericoloso metto tutto a sinistra io allora qua ho fatto tre onde onde che dici lo piazzo un teletrasporto vicino alla mia pozza vicino alla tua pozza si l'ho piazzato e poi per concludere vai si stia ma tu la roba lo sai che io da qua posso si stia ma dove sei tu? si da lontano guarda che pezzo guarda peccato che non ho soldi per scatenare vai aspetta mi aspetta che tu si va bene guarda aspetta non ci riesco falco dillo inutile ma sei trozzo perchè? ah già abbastanza vabbè la piazza lì dici bolli la vuoi mettere al posto di questa qua mia no no sta apposto dice vai a del lato tubo questa è la mia e non sta arrivando ancora niente da me e allora rimani lì in profinto e quando arriva qualcuno dal lato tuo ok no ha detto che le molle e le lanciano a me e allora le molle bisogna metterle in modo diverso sono sotto una moneta prendi la moneta oh stanno arrivando anche a me adesso beh adesso non arrivano più a me infatti vabbè è abbastanza facile fottu da dietro fottu da dietro fottu da dietro ci sono gli arcieri e anche il facocero stanno passando dicks cosa? dove ho passato? dove? stanno passando le ho fermati non le ho visti proprio muori orda successiva carichiamo ancora io carico dal mio lato e su dal tuo se per più roba che gli fa male ce l'hai le trappole da terra? Sì, però non ho i soldi Mi sto mettendo nei rallentanti All'alto mio e poi li uccido io a mano in mano Porco di merda, mi ha assordito, dammi una mano Fix Ma dal lato tuo non c'è niente Stanno arrivando dal lato tuo, Falco Sono morti, non ti preoccupare Ok C'è una moneta La moneta è scesa, ma chi lo uccide No, sono caduto giù E come faccio? Vai, continui, ma rimani dal tuo lato Rimani dal tuo lato Sì, sì, sono dal mio lato Però tu mi dico Stai sparando dal mio, però Sono passati altri soldati, non so come Dal mio o dal tuo? Non ho visto, ho visto solo che il punteggio non è più 19, ma è 16 Ma dove lo dice? In alto a destra, dove sta la mappa C'è la mia immagine sopra, però quello non lo vedi No, 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 sta in basso E allora perché non lo vedi? No, no, lo vedo, è che non l'avevo notato Dammi la mano, ci sta un orco Dix, dammi la mano Avvio Ma c'è ancora? L'ucciso Ce n'era uno Tre Dix Stanno arrivando a me Da tutte e due stanno arrivando Forca potato Ognuno deve fare il suo Dix Dix da solo Te ne ho tirati qualcuno, penso No, cadono proprio giù Forse sono quelli che mi sanno Ah, ecco perché passano Perché mi arrivano a me, capis? Ma li buttano giù Non tutti, alcuni arrivano a me Io non riesco a gestirmi con le... Quante bombe devo tirare e quante no No, sono caduto giù E' quando corro che cado giù Perché cerco di venirti incontro Ah, ma io sto messo bene Io già la mia, la mia orda era finita Ora è ricomincita Spara Dix Spara Dix Tu sei messo bene? Ecco, vedi, mi ne è arrivato uno da T Aspetta, non scatenare l'ord Non scatenare il prodotto interno, l'ord Allora, piazza un altro teletransport Piazza allora vicino al mio coso Anche se è inutile, se ne sono passati altri comunque Tri, ma da dove cazzo passano? Non me lo spieghi Vabbè Vabbè, io direi che dal lato mio sto Più o meno a posto Questo me lo fa vendere No, questa è tua Io direi, allora, visto che comunque le manda a te Vendi le catapulte che hai messo qua E fatti altri soldi Ma questa cosa in alto funziona? No, eh Cosa? Niente, ho messo delle tappole in alto che non funzionano Ti ho detto non le prendere quelle a muro No, ma a muro in alto, capì? Ho speso un sacco di soldi Piesci a mettere un congelante qua Oppure ti servono dal tuo lato? Tu hai pure il carrello, però Vai, dove ti serve? Dove hai tolto la molla Allora, io posso mettere altre molle Se no Altri Altri teletrasporti Ma dove si gira il carrello? Mettere un altro teletrasporti da me Wow Se passano mo Ma dove si gira il carrello? Il carrello? Ah, non ho visto Dove si dovrebbe girare Ma qui c'è la trappola segreta Lo sai di X? Guarda Ti faccio giusto vedere Sta qui in alto Se tu la colpisci Però durante un'orda quella cade Ah, l'ho vista L'hai fatta cadere No Vabbè, cominciamo l'orda Via Ma non lo sapevo Se lo sapevo Se l'avessi saputo Se l'avessi usata Perché c'era anche negli altri livelli Come ne ho totalmente dimenticato Bene Ecco quel che abbiamo visto Para un poco di Bombe Oggi dobbiamo prendere solo un tischio, eh Allora, io ne ho trovato uno per la via Quindi non penso ne prendo Almeno io non penso ne prendo solo uno Ah, di tischio o no? Ho detto vado Sì Oh, che figata È la seconda volta che mi succede Il primo è la prima parte in assoluto A me non mi è mai successo Forse per quelli l'ho preso 5 tischi Boh A me, io sto pieno di tizi Io c'ho un orco qui C'è l'orco, non serve niente Fa solo i lutti Io c'ho i tizi di pietra Che si sdoppiano Io ci sono orco Sto passando qualcuno Sdoppia Si è congelato A me non c'è più niente a te Pocadob Li fottola dietro Dix L'hai buttato via E vengono Dix Vincono, Dix Due, che schifo Eh ma no, dobbiamo fare uno Come premio un guardiano nano Wow, ehm Cosa fa questo amichetto Non lo so Però lo voglio il guardiano nano Guardiano nano Trappola a vapore Io mi potenzierei qualche cosa tipo Talvolta le bombe dei nani Provocano un sanguinamento Di breve durata dei bersagli Talvolta gli attacchi A loro accopinare E spingono i nemici Questo voglio Vai nano Ti ho potenziato Però costano 900 i nani Porca trota Madre Uh posso prendere La balestra Attacca i nemici Lancia una granata stordente Lancia una granata E salta gli nemici Stordente E spingi i nemici Mi consiene balestra O bastone Attacca il nemico da vicino No balestra Tix Acquista Ah questa La mia balestra Salutiamo Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti